Patrick! Vengo subito. E quindi fai una festa e non mi inviti? Non è per te. Perché? Perché è una festa per essere liberi. Per mescolarci, baciarci, drogarci e strusciarci. È per sperimentare. Senza paure, senza pregiudizi, senza regole. È solo per coraggiosi. Allora verrò. Forse dovrai provare un paio di cose. Va bene, le provo. Ah sì? Ti tremano le gambe. Dalla rabbia, nel vederti così pigliacco. Ci vediamo stasera.